Antonio, giovane padre, ha un problema. Come trova l'asilo più vicino a casa? Le ricerche sul web non lo aiutano, i risultati sono troppo generici e confusi. Anche Maria è una necessità. Devi affidare nonno Francesco alle cure di un buon centro per anziani. Nessuno, tra amici e parenti però, riesce a darle informazioni precise. Da oggi esiste un'applicazione per smartphone e tablet che ti fa scoprire tutti i servizi sociosanitari della tua città, ti dà contatti e ti dimostra su una mappa. Scarica l'applicazione andando sul sito www.stesegeo.it È gratuita, semplice da utilizzare e ti semplifica la vita.